Salve a tutti ragazzi e ragazze e bentornati in questo nuovo video Oggi vi recensirò il ciondolo di Suoi Luna L'adoro, proprio uguale a quello della serie E poi questo gattino della T Che si chiama Kiki Un attimo che metto a fuoco Metti a fuoco Kiki, il suo compleanno è il 16 agosto Allora Questo gattino è fatto in questo modo Con questo bellissimo fiocchetto Gli occhi glitterati Il nasino glitterato E dei baffetti paffutelli rosa Poi è morbidissimo Tipo di velluto Le orecchie dentro ce li hanno un colore molto più chiaro Rispetto al rosa del fiocco Degli occhi, della bocca, dei baffi e del naso Io l'ho preso perché sto facendo la collezione Sono il 3 Ho pink, rainbow e Kiki Però adesso poi io devo prendere anche un pinguino Che è fucsia E un po' violetto Poi ve lo farò vedere quando lo comprerò Ma adesso passiamo al ciondolo di Suoi Luna Appena uscito in radicola Adesso lo apro e poi ve lo faccio vedere Anzi apriamo l'insieme direstamente Un attimo solo Apriamolo C'è anche la rivista credo No, non lo so Sì, la rivista Che adesso apriamo l'insieme Aiuto Mi sono tratta malissimo Il cavalletto per registrare Che il cavalletto per registrare come vedete Un seggialone Metto il tavolo che sta dietro Et voilà Adesso sono un po' impazzita Ma non ho altro con quelli stradini Vabbè, vabbè Che ben poste Sono in un pattinaggio a... Come si chiama quella città? Vabbè Adesso vediamo prima il char Non c'è un bambino Vabbè Daniela spacca tutto Che c'è scritto? Allora Collana con ciongolo Non contiene nickel Non adatte bambini di età inferiore a tre anni Perché contiene parti di piccole dimensioni Che potrebbero essere ingente Ah, qua faccio l'azione Io non tengo... Io tengo due anni Quindi non lo posso avere Avete capito ragazzi? Quindi sto aprendo una cosa Visto che io ho due anni Non posso averlo Ma però chissà Se mettono anche il sole vicino Viene pubblica Cosa hai sei luna Ehm E' bello Ma è bellissima, no? Mi piace Bellissima Guardate qua E' oro con la luna qua No, mi piace Bellissima, raga Me la consiglio E' troppo bella La voglio indossore Anche se sera Me la metto dentro d'oro Ma come sei luna Ciao Ma è troppo bello Vabbè Sto sclerando Lasciate perdere Il mistero della luna Ma questa non è il sole luna Questa è luna La scena Eccola Questa è il sole luna Questa è Carol Seville Vediamo il giornalino Vabbè Sempre le solite cose Prova a vedere alla fine Se vi dice cosa esce Nel prossimo numero Vediamo Non lo dice Serena Gomez Ma che ci fa Qua Serena Gomez Cargill Perchè 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 Tu neanche lo vorrei Ma hai sapere le cose Ci sono luna Non degli altri C'è anche degli altri Ok Vediamo chi è dietro Vediamo il posto Non la conosco Kat Von Ah è Kat Arianna Grande Scusate per l'Arianna Nitor Per l'Arianna Nitor Che non l'ho riconosciuta Come sono scema E quando avevo ancora i capelli rossi Kat Von Valentin Sicula Che fanno la serie Kat Von E Kat C'è che Arianna Grande Intepita Anche io sono fan di Arianna Grande Eccola Di Kat Eccola qua Arianna Grande Solo che È un po' più diversa Perchè I capelli diversi Quella è proprio Quando era piccolissima Era proprio una ragazza Vedete qua Qua è Sam Kat Queste sono quelle bambine Che facevano gli spetti Le babysitter Vabbè abbiamo visto il giornalino E niente Spero che questo video Vi sia piaciuto Se così mettete un bel like Non dodolare Non disturbare Vi sia piaciuto? Io e il mio scendolo Vi salutiamo Vi saluta anche Kiki E noi ci vediamo Al prossimo video Ciao Il segreto della ronda Tantaron